Buongiorno, parliamo con? Cosimo della Quella. Responsabile? Per la sicurezza per il candele di Forio. Quali sono i problemi oggi? I problemi sono tanti perché da tempo che il Comune doveva già dall'Eco, Eco, Pegaso, Torre Saracena, il problema purtroppo parte dal Comune che non ci ha dato un'area valida per poter esercitare e penso che qualsiasi ditta che possa venire sul territorio se non ha queste condizioni lavorative non può esercitare a meglio le proprie... Questo è giusto, al di là delle ideologie volevo chiedere, oggi ci sono le condizioni per uscire con il camion? Abbiamo un accordo con tutti gli operai, siamo riusciti a mandare avanti i servizi. Anche se diciamo così c'erano delle incongruenze, tipo quali possono essere queste incongruenze? Anche se non ci sono le docce e cose varie. Per esempio una cosa molto importante che è una legge nazionale, cioè le tute dei lavoratori vengono lavati dalla ditta o le portano a casa? Hanno l'integrità sulla busta per se li lavano loro a casa, ma questo è un accordo che hanno fatto. E le vaccinazioni le famiglie le hanno oltre ai lavoratori? Non, aspetta, mi so che le vaccinazioni sono state fatte a tra gli operai... Ma le famiglie non? Una cosa delle... ma sono accordi che hanno fatto i sindacati per quanto riguarda il lavaggio... Quindi i sindacati hanno fatto questo tipo di accordi? Non è il lavaggio... perché non c'era una ditta che... Mi hanno dato la carta, però non mi hanno mai chiamato. Sto aspettando sempre che mi chiamano per... Quindi lei ancora non ha i vaccini, vedete? No, niente, neanche uno. Un quest'anno. Va bene.